Il massacro di Buccia ha sconvolto anche Washington che pensa ad ulteriori sanzioni contro la Russia. Il corrispondente Claudio Pagliara. Le atrocità commesse a buca dai russi non possono restare impunite. Joe Biden ieri non ha parlato, ma nelle ultime due settimane non ha risparmiato strali a Vladimir Putin, definito un criminale di guerra, un macellaio, un uomo che non può restare al potere. Ora all'interno della sua amministrazione è cominciato il dibattito su ulteriori sanzioni da imporre a Mosca, passate al vaglio i settori minerario, finanziario e dei trasporti. La Casa Bianca ha colto nelle dichiarazioni dei leader europei anche la disponibilità a compiere i passi in una direzione finora tabù, quella di colpire il settore energetico. Per il segretario di Stato americano Blinken le immagini provenienti da buca sono un pugno nello stomaco. Il mondo non deve assuefarsi a simili crimini, considerarli la normalità della guerra. Il segretario generale dell'ONU Guterres si dice scioccato e auspica la Costituzione in tempi brevi di una commissione d'inchiesta indipendente. Da molti decenni non si vedevano simili atrocità contro i civili sul suolo europeo e l'amaro commento di Stoltberg, l'occhio sulle pagine più buie della storia europea del secolo scorso. E dopo appunto la scoperta dei massacri di Buccia anche i paesi europei valutano nuove sanzioni contro la Russia. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden. Weitere mazname beschliesse. Sono in arrivo nuove sanzioni. Grazie. 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 Grazie.